Grazie 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 Sì, ma così io non ne ho blu. No, no, vina l'ho. Sì, ma io lo vorrei dovevo fare questo povero. No, no. No, Dio, bo. Perchè? Metti l'elaccio, no? Metti l'elaccio. L'elaccio sensibili. Andrei a bloccare. Ok. L'elaccio. E' in un'elaccio. E' in un'elaccio. Non tremo tre. Ok. Hai fatto? Sì. Come va? 12. Vai. Vai. 1 a 6 fa sto lavoro, no? Si. E qui c'è il piano. Passo. Ok. 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 Come? Come? E quello di... Come? Non ce l'ho mai, perché è il momento del genere. Non ce l'ho mai... Come? Non ce l'ho mai, perché è il momento del genere. Non rendo un riscosso? Non rendo un riscosso? Non rendo un riscosso? Vai! un pochino e passo a pedo gli do il vino Grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti.